La richiesta viene attraverso il nostro nazionale ma è una richiesta che viene dalla Croce Rossa Ucraina quindi è specificatamente gestita sulle reali necessità di questa popolazione martoriata. Nella lista di farmaci che abbiamo fatto c'è sia antibiotici, antipertensivi, pubblicemizzanti, cortisonici tutte un po' quelle che le necessità, comunque per lo più farmaci salva vita. Mi fa piacere come Presidente dell'Ordine dei Farmacisti Pratesi dare questo segno di vicinanza alle popolazioni che hanno bisogno.